Processo Veneto Banca ormai alle porte dell'udienza preliminare il prossimo 15 maggio ma ci sono novità, cioè voi intendete chiamare in causa Intesa San Paolo come responsabile civile? Sì certo, all'udienza del 15 maggio ci costituiremo parte civile sia nei confronti alle persone offese del reato che per tutti gli azionisti truffati, per cui tutti i risponitori traditi sul territorio con la perdita delle azioni Veneto Banca e faremo sicuramente una richiesta di chiamare come responsabile civile Intesa San Paolo, questo anche forte già di un provvedimento del Tribunale di Roma che ebbe a riconoscerla come responsabile civile. Non solo Veneto Banca si è parlato anche di truffa dei diamanti questa mattina, ci sono risparmiatori truffati anche sul nostro territorio? Assolutamente, anche questa è una delle truffe del secolo che ha riguardato circa 100-120 mila persone su tutto il territorio italiano, anche qui nel VCO ci sono appunto molti truffati, noi naturalmente agiamo a loro tutela e andiamo appunto a chiedere la restituzione del maltolto sia nei confronti delle società che hanno materialmente venduto i diamanti sia nei confronti delle banche che appunto hanno indotto i risparmiatori a fare questi investimenti scellerati. Il fondatore deve immediatamente mandare un reclamo sia alla società che alla banca e pretendere appunto il risarcimento del danno, la restituzione dei soldi investiti maggiorati appunto degli interessi legali. È opportuno poi naturalmente fare la denuncia querela sia nei confronti della società che nei confronti della banca e per chi appunto aveva comprato i diamanti dalla società fallita, la IDB, fare anche la domanda di ammissione al passivo o di restituzione nel caso in cui appunto i diamanti fossero in custodia presso il cavo della banca o della società. Invito naturalmente tutti a rivolgerci al movimento difesa del cittadino qui a Verbania, siamo attivi naturalmente anche su questo fronte.